Luca Fantacci, che è economista e docente alla Bocconi, e segue Susanna Cenni. Io sono grato innanzitutto a voi che avete ancora la forza di ascoltare a quest'ora, ma sono grato a Gianni per aver aperto questo spazio di riflessione e di confronto, anche di averlo aperto a dei simpatizzanti esterni come me, per lo più bocconiani e toscani, quindi con una serie di difetti in questa sede. Ti sono grato Gianni anche per aver evocato nel tuo discorso introduttivo la questione urgente e purtroppo disertata della necessità di un pensiero economico rinnovato. Questo credo che sia cruciale e credo che sia veramente di un'urgenza drammatica, perché quello attuale, si parlava prima di rapidità, quello attuale è lento, qualcuno ha fatto anche degli esempi pertinenti, e soprattutto indugia in degli errori. Ora qua il tempo stringe, quindi mi scuserete se sarò semplice, ai limiti della banalità, però purtroppo gli errori sono crassi. L'errore che sfugge al pensiero economico attuale è proprio il fatto di misconoscere questa incapacità di effettuare l'incontro fra domanda e offerta. Lo diceva prima Don Massimo nella maniera più chiara, ci sono delle abitazioni, delle case senza abitanti e degli abitanti senza casa. Questa è la prova del fatto che la domanda e l'offerta non si incontrano. E una casa senza abitanti non è una casa. Un abitante senza casa non è un cittadino. Quindi questo è un problema economico ma che ha delle ripercussioni drammatiche. E il problema, anche questo lo sottolineo, è banale, ma purtroppo tocca continuamente ricordarlo, il problema non sta sul lato della offerta. Il che significa che le politiche a favore della competitività, per carità, in questo paese, possiamo anche pensarle e farle, ma non dovrebbero essere la preoccupazione cruciale. La questione della riforma del mercato del lavoro e della precarizzazione del lavoro non soltanto comporta una serie di problemi di ordine giuridico, di legittimità, di dignità del lavoro, ma è anche dal punto di vista economico qualche cosa che non c'entra alla questione cruciale. La questione cruciale è fare e riattivare, lo diceva bene Stefano Fassina prima, la domanda. Questa è la questione. E anche qua vado un po' veloce. Riattivare la domanda che cosa significa? Significa non guardare a est, dove per fare partire la domanda ci si basa esclusivamente su una domanda esterna. Mi riferisco alla Cina evidentemente, ma mi riferisco anche al modello della Germania. Non si può pensare di uscire dalla crisi facendo soltanto leva su una domanda esterna. E a caccia di domanda non possiamo neanche guardare a Ovest. Mi riferisco al modello americano dove la domanda viene creata a furia di indebitamento. Anche questa è una strada che non possiamo perseguire. Da dove dobbiamo suscitarla questa domanda? Beh dall'interno, anche perché, anche qua se vogliamo poi guardare alla radice del problema economico. La domanda non c'è, ma non c'è la domanda effettiva, non è che non ci siano dei bisogni. In un paese come questo vi pare che non ci siano dei bisogni da soddisfare? Basta guardarci in giro. Bisogni stringenti, privati, di persone che non ce la fanno arrivare alla fine del mese, che volentieri consumerebbero di più, bisogni pubblici, l'assetto idrogeologico del territorio, la cultura, l'istruzione, le infrastrutture, tutto quello che volete mettiamoci dentro. Ma non è che non ci sia una fonte di una possibile domanda. Come si fa ad attivarla e a farla diventare una domanda effettiva? C'è certamente una questione fiscale di redistribuzione, è stata opportunamente ricordata. Io voglio concentrarmi sull'aspetto finanziario in queste ultime battute. Mi ha preceduto già, e posso andare veloce, Mario Crosta di Banca Etica, evocando una colpevole diserzione da parte della politica della questione della riforma del sistema finanziario. E sottoscrivo appieno le indicazioni che lui ha dato riguardo alle direzioni da perseguire in questo senso. Concentrerò la mia attenzione invece su un'istanza di riforma più radicale. Anche qua citando Keynes, tu Gianni prima lo citavi, Keynes non è soltanto quello che giustamente ricordiamo della spinta alla domanda. Keynes è quello che ci ricorda che il sistema finanziario, così come funziona, funziona male, deve essere radicalmente riformato sulla base di due principi. Qua non ho tempo di addentrarmi nei dettagli. Il primo, la corresponsabilità del debitore e del creditore, perché il nostro attuale sistema finanziario oscilla fra delle situazioni in cui ci sono dei debitori che appunto si indebitano in maniera irresponsabile e delle situazioni, come quella attuale in Europa, in cui invece c'è una tirannia esercitata dai creditori. Allora dobbiamo ripristinare un equilibrio e una corresponsabilità fra creditore e debitore. L'altro principio banale, concludo, la ricchezza monetaria e finanziaria non è ricchezza, ma povertà e indigenza e comporterebbe un obbligo da parte di chi la detiene di spenderla. Concludo veramente, lo accenno perché sennò sembrano chiacchiere e invece credo che appunto il senso della mia presenza sia anche legato a delle proposte concrete. Le accenno poi se vi interessa, mi cercate e ne parliamo. Una sull'Europa. Le implicazioni di questo discorso per l'Europa credo che siano evidenti. Non possiamo permetterci né, e rischiamo di vedere nelle prossime elezioni una spaccatura fra chi vuole semplicemente uscire dall'Europa e chi se la vuole tenere così com'è. Io credo che sia responsabilità di un partito come questo di insinuare all'interno un cuneo in cui sia possibile ripensare radicalmente l'Europa, ma a partire dall'idea che i creditori non è che siamo lì a chiedergli un'elemosina, un aiuto, un rifinanziamento delle nostre banche o dei nostri stati, ma gli chiediamo ai paesi creditori di responsabilmente spendere i crediti che hanno accumulato, in maniera tale da aiutare i paesi debitori a ripagare i loro debiti. È banale anche questo, ma vale la pena ricordarlo. Stiamo promuovendo un manifesto con alcuni colleghi economisti, certamente è compito degli economisti elaborare le proposte, è compito poi dei politici eventualmente raccoglierle. L'ultima questione che mi sta particolarmente a cuore, a proposito di riforma del sistema finanziario, sistemi di moneta complementare, veramente concludo. La regione Lombardia ha varato ieri una sperimentazione di una moneta complementare su scala regionale. Lo ha fatto con il voto favorevole anche del Partito Democratico nel Consiglio regionale. In questa occasione il Partito Democratico è andato al traino e credo che anche questo sia un peccato perché c'è il rischio nel caso di monete complementari che prendono la deriva di strumenti autonomisti o puramente piegati a delle logiche imprenditoriali e di costituzione di nuove forme di rendita. Invece bisogna pensare anche a questi strumenti in una logica inclusiva per tenere dentro i cittadini e le amministrazioni pubbliche e credo che questo sia un altro fronte di attenzione. Scusate se ho abusato del tempo. Grazie.